lunedì primo ottobre iniziamo un nuovo mese e con una nuova classe anche una nuova settimana l'escaldamento di oggi super veloce all'esterno 400 metri di corsa a seguire tre round not for time di samsung stretch ne faremo 10 per lato poi ci saranno due minuti di box shoulder stretch e quindi ci stireremo per bene le spalle su un box e per concludere una decina di kettlebell swing bandit quindi con elastico come al solito tutti gli esercizi sono riportati qua sotto per quanto riguarda skills e forza avremo un 5 per due di tall clean seguito da un hang clean quindi una serie è un hang clean una serie un hang clean per cinque volte poi avremo un 5 per 3 di clean partendo dal 60 per cento del nostro massimale andando a salire fino a dove riusciamo il wad 18 minuti and wrap questa volta abbiamo 12 calorie sullo ski erg 15 wall ball 12 dumbbell clean and jerk 9 toast bar per quanto riguarda i carichi semplicemente li trovate come sempre qua sul lato a domani